Controlli in autostrada da parte della polizia nel weekend appena trascorso, dedicati alla prevenzione di fenomeni delittuosi e repressione di reati. Un uomo originario dell'Albania stava transitando a bordo di un'utilitaria in A1, nel territorio di Cassino, quando viene fermato per un controllo da una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Cassino. Dal controllo documentale effettuato attraverso i canali della sala operativa della Direzione Centrale di Polizia Criminale emerge che l'uomo, un 34enne albanese, risulta essere ricercato in banca dati dell'Interpol, poiché destinatario di mandato di arresto europeo ai fini estradizionali verso l'Albania per il reato di lesione. Dopo la conferma, gli agenti hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione ed avviato le procedure per l'estradizione. Il 34enne è stato associato presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione del Presidente della Corte di Appello di Roma. Sequestrarlo inoltre un ingente carico di materiale elettrico ed edile, a danno di due uomini che viaggiavano a bordo di un furgone, originari della Campania. I due sono subito apparsi ai poliziotti alquanto nervosi e non collaborativi nel fornire indicazioni valide circa la provenienza e la destinazione dell'ingente quantitativo di materiale elettrico che trasportavano. Dopo i necessari accertamenti è emerso che quella merce era stata asportata durante la notte in un magazzino sito nel comune di Itri e per i due pseudoelettricisti rimane l'attesa per il giudizio della Procura, dei feriti anche per possesso di attrezzi atti allo scasso. Tra la merce sequestrata anche apparati di diffusione audio, i due sono stati poi denunciati.